Buonasera, per secondo appuntamento del corso su storia della resistenza, della guerra, dell'antifascismo, in questo particolare appuntamento abbiamo chiesto a Italo Poma, che è il presidente dell'Aegvas, l'Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna, di parlarci appunto di alcuni esponenti, alcuni personaggi che hanno caratterizzato il non secondario, per rilevanza insomma e per partecipazione, contributo che localmente, dall'allora provincia di Vercelli, che comprendeva naturalmente anche il biellese al tempo, fu dato alla lotta contro i franchisti. Quindi Italo Poma, che è un prezioso riferimento per l'Istituto, per il suo ruolo appunto nell'Aegvas e anche per la sua attività scientifica, ci parlerà questa sera appunto di questo movimento di volontari combattenti antifascisti locali in Spagna. Grazie Italo, a te la parola. Sì. Allora, non vi parlerò della guerra di Spagna, se no non finiamo più, poi non sono così ferrato su tutta la storia della guerra, vi parlerò dei combattenti di Spagna. Per noi è fondamentale continuare a diffondere questa memoria perché facciamo parte dell'associazione che ha questo deputato, ma anche perché riteniamo che la guerra di Spagna è stato sì un momento cruciale della storia del Novecento, un momento anche, come dire, precursore di tutta la guerra mondiale e anche un momento glorioso, ma per noi è un... dalla guerra di Spagna si parte da lì e si fa la storia di tutta la battaglia antifascista perché, come abbiamo cercato di raccontare in varie occasioni e in particolare in un web documentario che forse qualcuno di voi ha avuto modo di vedere, almeno in parte, perché si intitola la lunga resistenza è lungo tre ore e mezza e quindi penso che siano pochi quelli che abbiano resistito a vederlo tutto quanto, però ha un utilizzo didattico perché si può vedere a pezzi, insomma. E niente, la storia dei combattenti di Spagna e italiani, di quelli che sono sopravvissuti, insomma, perché sono anche quelli che purtroppo per loro sono morti, è una storia che copre un arco temporale di, in alcuni casi, di otto o nove anni, nel senso che loro hanno partecipato alla guerra di Spagna e già venivano spesso e volentieri da altre battaglie precedenti. Facciamo il caso di Francesco Leone, Francesco Leone era stato ardito del popolo, quindi stiamo parlando del 21-22, insomma, quindi qui non sono nove anni, sono quaranta e passa anni. E quindi hanno fatto una battaglia che è continuata nei campi di concentramento francesi perché anche resistere, sopravvive in un campo di concentramento, è una forma di resistenza. Una parte di loro che era a piede libero in Francia ha partecipato all'esistenza in Francia, una parte è stata poi consegnata allo Stato italiano, allo Stato fascista, che sono stati mandati, buongiorno Consuelo, mi sentite? Pronto? Sì, sì, sì. Sì, sentiamo, chiediamo a tutti di spegnere i microfoni, salvo Italo ovviamente. E sono stati mandati poi a Ventotene, tra l'altro abbiamo proprio in cantiere per il 2024 con dei registi di Roma, anzi di Ponza addirittura, uno è, un film documentario su Ventotene in cui intendiamo raccontare la battaglia anche di carattere europeista, dicono alcuni internazionalisti, avremmo detto noi, che ha visto i combattenti di Spagna come presenza significativa. A Ventotene, alla fine, quasi metà dei confinati erano stati partecipanti alla guerra di Spagna. La battaglia poi continua nella resistenza, e adesso poi ve ne parlerò dopo. Diciamo che la presenza degli italiani in generale nella guerra di Spagna è stata una presenza importante e significativa. Stiamo parlando di circa 5.000, 4.500-5.000, su un totale di 45.000-50.000, cioè 10%. Ma soprattutto è stata importante dal punto di vista qualitativo, perché a differenza degli spagnoli, molti di loro avevano una qualche esperienza militare, come minimo avevano fatto il servizio militare, molti avevano fatto la prima guerra mondiale, qualcuno è stato addirittura ufficiale nella prima guerra mondiale. Quindi avevano una qualche esperienza di guerra. Gli spagnoli non ce l'avevano in generale, perché l'esercito spagnolo era un esercito professionale e la maggior parte dell'esercito spagnolo era passata ai generali ribelli. Quindi è stata un'esperienza importante, basti dire che uno dei fondatori del quinto reggimento è stato il comandante Carlos, che era Vittorio Vidali, e che il coordinatore delle brigate internazionali era Luigi Longo, che poi è stato il comandante in capo delle brigate Garibaldi durante l'esistenza. E quindi questo già da solo vi dà l'idea dell'importanza, del ruolo che gli italiani hanno avuto. Detto questo, va detto che dal punto di vista politico gli italiani si differenziano rispetto alle altre brigate internazionali, per esempio, perché fin da subito hanno un'impostazione che vuole essere unitaria. Lasciamo perdere le divisioni che ci sono state all'inizio con gli anarchici e peggio ancora con il POM, ma parlando dell'arco più generale delle forze politiche esistenti all'epoca, la brigata Garibaldi, la brigata italiana, appunto si presenta come una vocazione unitaria, tant'è che fanno comandante, non è ancora una brigata, è un battaglione, del battaglione Garibaldi, fanno comandante un repubblicano, Randolfo Pacciardi, che era stato ufficiale nella Prima Guerra Mondiale, e assume lui, diciamo in quota partito repubblicano, il comando della brigata. I commissari politici sono un comunista e un socialista, già è bizzarro anche questo, perché in genere c'è un commissario politico, ma è uno, che senso ha fare due commissari politici, ma bisognava appunto accontentare sia i comunisti, sia i socialisti, e quindi c'è un commissario politico socialista, azzi, e uno comunista che guarda caso, nel battaglione Garibaldi, guarda caso è un biellese vercellese, cioè Antonio Roasio. Ci sono secondo me alcuni interrogativi che potremmo porci, chi erano queste persone che sono andate in Spagna, da dove venivano e cosa volevano. Allora, sfatiamo subito una leggenda, che è anche una bella leggenda, che ha presentato, specialmente nel mondo anglo-sassone, l'esercito delle brigate internazionali come un esercito di intellettuali. Certo, ci furono artisti, ci furono giornalisti, ci furono scrittori, io ho contatto cinque premi Nobel della letteratura che hanno militato nella guerra di Spagna, più uno che ha militato della parte opposta, però in generale e per gli italiani in maniera evidentissima non erano degli intellettuali ma erano dei proletari. Non vale la pena di fare una valutazione di carattere statistico per vedere che mestiere facevano o non facevano perché fondamentalmente erano dei migranti, cioè erano persone che erano dovute fuggire dall'Italia perché perseguitate politicamente oppure molto semplicemente non trovavano lavoro. Quindi, come migranti facevano i lavori che trovavano, spesso erano lavori in nero e molto facilmente facevano i muratori perché quello è il settore in cui è più facile trovare lavoro senza contratti, senza assunzioni. erano appunto, ripeto, quelli che vanno in Spagna per la stragrande maggioranza arrivano dalla Francia. Ah no, aggiungevo a proposito di chi erano un'altra cosa che non è una leggenda ma su cui ancora un attimo riflettere, noi pensiamo a proposito di combattenti come nel caso della Resistenza pensiamo a dei giovani, dei giovanissimi. Nella Resistenza la grande maggioranza di partigiani aveva 18, 19, 20 anni. Qui non è così. Cioè l'età media dei combattenti di Spagna perlomeno di quelli italiani è di 35 anni. che vuol dire che ce n'era qualcuno il più giovane era Giovanni Pesce che aveva 18 anni ma ce n'era qualcuno che ne aveva 60 addirittura. Cioè l'età media era di 35 anni. Ripeto, venivano quasi nella stragrande maggioranza dalla non c'è più il mio video ma insomma c'è Alberto Gronda No, è tornato, è tornato. Tornato il video. La maggior parte vengo da Spagna dall'Italia che vanno direttamente in Spagna dall'Italia sono 200 200 ma insomma 200 uno di questi per esempio è Anello Poma Anello Poma è andato direttamente da da Biel è andato a Parigi e poi da Parigi è andato è andato in Spagna e in tutto nella provincia di Vercelli che sono partiti direttamente dall'Italia sono in quattro quindi un numero un numero un numero ridotto come mai dalla Francia? Ovviamente no? La maggior parte dei fuoriusciti italiani quelli che erano dovuti fuggire dall'Italia o erano semplicemente andati a cercare di sopravvivere in qualche modo vanno nel paese più vicino e che ha una lingua in qualche maniera più facile da assimilare che è la Francia ce n'era anche chi arrivava da posti molto più lontani per esempio c'è il caso di Carlo Ravetto di Mezzano Mortigliengo che arriva dall'Argentina qualcuno arriva dall'Unione Sovietica però la maggior parte arrivano dalla dalla Francia ripeto erano dei migranti con le storie che sono tipiche di tutti i migranti cioè storie di ingressi clandestini di espulsioni no? di di fughe rocambolesche di tentativi di rientrare da un'altra parte insomma però comunque sia in Francia è stato calcolato che nel periodo tra le due guerre c'erano un milione di italiani che è un numero grandissimo mettiamo conto la Francia di allora aveva 30 milioni di abitanti e c'era questa immigrazione anche perché appunto i francesi avevano un bisogno assoluto di mano d'opera perché la Francia è il paese che ha avuto in percentuale il maggior numero di morti nella nella seconda guerra mondiale qualche parte ce l'ho anche scritto comunque diciamo che tra morti tra mutilati invalidi eccetera si raggiunge quasi due milioni di uomini che vuol dire oltre a due milioni di braccia in meno sottratte al lavoro vuol dire anche due milioni di futuri padri in meno quindi c'è una crisi demografica la Francia è l'unico paese d'Europa che ha un saldo negativo delle nascite in quegli anni quindi gli italiani vengono accolti non sempre in maniera così entusiasta perché poi anche allora un po' di giovinismo un po' di razzismo c'era però quando il bisogno c'è insomma si fa buon viso cattivo gioco e quindi c'era questa questa disponibilità ad accogliere ad accogliere stranieri e in questo caso di accogliere italiani quando scoppia la guerra civile spagnola in questo ambiente di fuoriusciti emerge la volontà il desiderio di fare qualcosa prima di tutto come accade spesso emerge la volontà di andare a vedere cosa succede c'è una una grossa novità c'è una c'è una rivoluzione in atto forse non era la rivoluzione che avrebbero voluto fare i comunisti e tantomeno quella che avrebbero voluto fare gli anarchici però era pur sempre una una rivoluzione e quindi aveva una forza di attrazione no molto molto grande tra l'altro negli anni precedenti al al golpe già c'era stata una piccola migrazione di italiani soprattutto da parte degli anarchici per gli anarchici la Spagna era la terra promessa perché era il luogo nel mondo in cui gli anarchici erano più numerosi erano più forti quindi c'è questa cosa questo arrivo di volontari che all'inizio è un po' la critica il primo gruppo significativo di volontari è un gruppo che va in Spagna per motivazioni di carattere sportivo cioè in previsione delle olimpiadi da Germania che dovevano avvenire qualche mese dopo gli spagnoli decidono di fare delle contro olimpiadi delle olimpiadi popolari da tenersi a Barcellona a partire dal 19 luglio del 1936 quindi arrivano alcune centinaia di atleti atleti insomma di giovani o più o meno giovani fai conto gli unici due italiani di cui abbiamo certezza che hanno partecipato alle olimpiadi popolari sono un valdostano jacquot e un bellese appunto che era Annibale Caneparo e Annibale Caneparo aveva 29 anni che per un atleta è un'età piuttosto elevata specialmente all'epoca adesso gareggiano fino oltre 30 anni ma allora non era concepibile vanno in Spagna per fare le olimpiadi popolari e le olimpiadi popolari non si possono fare perché proprio in concomitanza c'è il golpe dei militari e quindi buona parte di questi virgolette atleti scendono in piazza vanno sulle barricate vanno sulle barricate e poi alcuni si fermano altri vengono fatti rientrare nei paesi di origine altri ancora riparano in Francia ma poi dopo quando si formano le brigate internazionali ritornano nelle brigate internazionali quindi è una storia così anche molto affascinante tra l'altro nel 2026 ci saranno tutta una serie di celebrazioni per ricordare sarà il novantesimo delle olimpiadi popolari noi abbiamo tra l'altro a Barcellona il nostro corrispondente un compagno nostro che collabora con noi da anni che è un compagno che è stato perseguitato anche lui personalmente quando erano gli ultimissimi anni di Franco perché era un leader della commissione sobrera della SEAT e suo padre era quello che si è il responsabile della costituzione delle olimpiadi popolari quindi nel 2026 ci occuperemo sicuramente di questa di questa vicenda quando poi insomma finisce disgraziatamente per loro la guerra gli italiani come anche i tedeschi i polacchi tutti quelli che non venivano da paesi in cui avevano una posizione legale cioè gli inglesi tornano in Inghilterra gli americani tornano in America ma certamente i tedeschi non possono rientrare in Germania se no finiscono in campo di concentramento lo stesso vale per i polacchi e lo stesso vale per gli italiani vengono messi in campi di concentramento in Francia prima direttamente sulla spiaggia poi nel campo di Wurs poi al Vernet che è un campo di punizione e poi appunto una parte di loro diciamo circa 400 poi alla fine erano rimasti al Vernet vengono estradati in Italia e mandati a Ventotene quelli che non erano nei campi di concentramento cioè che avevano posizione legale in Francia oppure in qualche maniera erano riusciti a sottrarsi all'arresto sono tra i primissimi a partecipare alla resistenza qui c'è un problema che segnalo subito che quando la Francia viene invasa viene attaccata e poi invasa dai tedeschi c'è in vigore un patto di alleanza di non belligeranza tra l'Unione Sovietica e la Germania e quindi giustamente i comunisti in generale vengono visti all'interno della Francia come dei nemici vengono visti come dei nemici e anche all'interno del mondo antifascista ci sono delle frizioni ci sono delle polemiche c'è chi naturalmente contesta l'operato dei comunisti c'è chi anche all'interno del partito comunista che non è d'accordo faccio un esempio che è molto carino racconta Leo Vagliani lo racconta in diverse occasioni in particolare nella sua prefazione o post-fazione del libro di memoria grande libro di grande scrittore di Arthur Köstler La schiuma della terra allora racconta che lui non digerisce il patto molto farribetro e decide di uscire dal partito comunista e contemporaneamente decide di arruolarsi nella legione straniera per combattere contro i tedeschi da notare che lui era stato in Spagna ma non aveva combattuto aveva fatto giornalista si presenta volontario all'ufficio reclutamento chiedendo di essere arruolato e racconta lui mentre firmo la curiosità mi spinge a guardare chi aveva firmato prima di me e con stupore vedo la firma di Luigi Longo ora Luigi Longo era naturalmente fedelissimo al partito comunista e all'unione sovietica però in qualche maniera il suo antifascismo di sempre il suo cuore stava nella parte della battaglia antifascista e quindi anche antinazista naturalmente i francesi non accettano né la domanda di Leo Valiani e neanche quella di Longo anzi dopo qualche giorno li portano tutti e due al Vernet prima Valiani poi qualche tempo dopo Longo e racconta Valiani che naturalmente quando Longo arriva al Vernet da notare che è un amici Longo toglie il saluto a Valiani perché Valiani aveva contestato l'operato dell'unione sovietica cioè siamo al limite della schizofrenia quando poi le cose cambieranno l'unione sovietica entrerà in guerra e si ricreerà il fronte antifascista naturalmente ritorneranno a essere amici collaboreranno insieme Valiani è stato il rappresentante di giustizia e libertà nel CLN Alta Italia quindi questa cosa è avvalorata anche da altre testimonianze per esempio nel campo di Guus è uno dei motivi per cui li trasferiscono al Vernet nel campo di Guus a un certo punto chiedono anzi intimano ai prigionieri di arruolarsi nelle compagnie di lavoro cioè andare a scavare trincee e gli anarchici accettano e fecero bene perché nel casino della guerra nella debacle buona parte di loro riuscì a scappare i comunisti rifiutavano fermamente ma si offrirono per esempio mio padre testimoniava questa cosa si offrirono di arruolarsi ma di arruolarsi inquadrati militarmente con i propri comandanti cosa che naturalmente i francesi non accettano e quindi li spediscono da Guus a un campo di punizione che era il campo del Vernet che era più duro e l'esperienza dei campi è un'esperienza comunque molto interessante perché nei campi portano avanti un processo di formazione che andava avanti già da prima cioè nella tradizione del movimento operaio in generale del movimento comunista ancora di più c'era questa forte spinta alla crescita non solo politica ma anche culturale gli storici francesi che si sono occupati dell'argomento a proposito di Guus parlano dell'università di Guus mio padre che amava un po' le battute esagerava un po' lui diceva che lui era partito per la Spagna che sapeva parlare solo il piemontese poi ho imparato lo spagnolo poi ho imparato il francese poi ho imparato l'italiano ma la cosa più significativa che ovviamente non riguarda solo il caso di mio padre ma anche ma anche tanti altri l'altra cosa significativa è che questi militanti sia nella guerra di Spagna sia in generale militanti antifascisti che in nostra grandissima maggioranza erano dei proletari che avevano fatte al massimo la quinta elementare portano avanti un processo di emancipazione personale di crescita culturale che li fa diventare non solo dei quadri politici ma anche in qualche maniera degli intellettuali fatta tutta la trafila rimaniamo sui francesi allora quelli che rimangono a piede libero cominciano fin da subito a fare delle azioni di sabotaggio perlomeno anzi il primo gruppo di carattere virgolette terroristico che si forma a Parigi è un gruppo composto da italiani il cui capo era Riccardo Roregger e voi capite già bene dal suono della parola che tanto italiano non lo era nel senso che era nato a Pola cioè nel pieno impero austro-ungarico Roregger era stato uno dei comandanti a un certo punto il comandante della brigata di Garibaldi era Riccardo Roregger però non viene individuato addirittura si impiega in una fabbrica francese che produceva armamenti e comincia a fare lavoro di sabotaggio e poi a un certo punto li individuano li arrestano subiscono un processo che è noto come le procès della maison de la chimie che avviene presso l'università di chimica c'è un film è più un film televisivo che non un film di grande diffusione che parla proprio di questo processo qualche mese dopo l'altro gruppo più numeroso ancora che si crea a Parigi il gruppo noto come il gruppo della Fiche Rouge è un gruppo che è composto interamente da stranieri il suo leader il suo leader è un armeno Manukian infatti è noto anche come gruppo Manukian ci sono spagnoli ci sono italiani ci sono polacchi ci sono ebrei quando li arrestano i poliziotti francesi fanno un lavoro di fino cominciano a individuare alcuni ma non li arrestano li seguono per mesi finché riescono a prenderne la maggior parte fanno un manifesto la Fiche Rouge un manifesto rosso con dentro dei medaglioni con dei ritratti e dei nomi non li mettono tutti perché erano una quarantina comunque ne mettono un certo numero con nome e cognome c'è tutto il nome straniero e sottoscrivono ma sono questi gli amici della Francia appunto a significare che insomma erano tutti stranieri facevano tutti parte di un'associazione preesistente che si chiamava Moi Mendeuvre Immigré che era una grande organizzazione che raccoglieva appunto i lavoratori immigrati e chiaramente sono i primi perché intanto erano quelli che sentivano di più il bruciore insomma del dilagare dell'armata nazisti e poi perché essendo gente che era dovuta scappare e quindi aveva vissuto l'esperienza della lotta clandestina sono i primi che hanno la capacità di mettere in piedi delle azioni di questo genere i francesi non avevano questa esperienza se la formano in fretta ma all'inizio non ce l'avevano da notare da notare che una parte degli italiani che si fermano in Francia che riescono a sfuggire degli arresti che fanno lavoro clandestino che fanno militanza partigiana eccetera una parte di questi quando la Francia sta per essere liberata passano in Italia e vengono a fare resistenza in Italia cioè se le fanno tutte insomma quelli che invece erano a Ventotene rimangono lì fino a quando vengono liberati qualche giorno prima dell'8 settembre perché i comunisti gli anarchici li tengono fino proprio all'ultimo insomma quando escono vanno nei rispettivi luoghi di origine a organizzare la resistenza non erano tantissimi ovviamente erano pochi centinaia sparo una cifra 300 ma esagerare insomma che nel nel movimento partigiano come viene formando e come viene crescendo è un'esigua minoranza però attenzione un conto è essere non so 300 quando l'esercito partigiano alla fine raccoglie 100 150 150 mila uomini un conto è essere 300 quando all'inizio sono poche decine di migliaia quindi c'è un peso maggiore ma soprattutto avevano esperienza di lotta e non mi riferisco solo all'esperienza militare che sicuramente quelli che erano stati in Spagna ce l'avevano e non solo e non solo avevano visto come combattevano i tedeschi li avevano visti raccontava a Nello Poma che la prima cosa che ha dovuto insegnare ai ragazzi che andavano in montagna non era a combattere la prima cosa era non scappare quando arrivavano i tedeschi tanto era forte il mito dell'invincibilità dell'esercito tedesco l'esercito tedesco era il migliore esercito del mondo non c'è dubbio alcuno in me avevano quindi questa esperienza avevano combattuto ma soprattutto questo io lo ripeto tutte le volte quale esperienza avevano avevano l'esperienza di aver partecipato in Spagna alla costruzione quasi dal nulla di un esercito popolare perché quando c'è il golpe ripeto la maggior parte dell'esercito passa ai ribelli la maggior parte dell'esercito poi era addirittura fuori dalla Spagna era in Marocco passano ai ribelli quelli che non passano ai ribelli per un po' stanno a guardare non sanno bene che scelta fare poi alla fine accettano di partecipare alla ricostruzione dell'esercito repubblicano spagnolo i combattenti di Spagna fin dall'inizio questa questa esperienza ce l'hanno avuta ed è l'esperienza che gli è servita maggiormente nella formazione delle brigate delle brigate partigiane veniamo ai nostri veniamo ai biellesi e ai vercellesi erano ma non erano mica pochi sono stati censiti più di 50 più di 50 anche lì con delle storie di immigrazione e migrazione di vario genere facciamo un esempio per tutti di dove era Francesco Leone cioè Francesco Leone è vissuto per buona parte della sua vita ad Arcelli ma si è fermato si è formato a Biella ha fatto gli studi lui era perito elettronico credo a Biella ma era nato in Brasile cioè devo dire anche il criterio di attribuzione della cittadinanza eccetera alle persone è sempre una cosa un po' relativa bisogna vedere come il loro percorso di vita si è declinato allora io non vi posso parlare di tutti i combattenti di Spagna che hanno partecipato alla resistenza anche se per quanto riguarda il biellese e il vercellese non sono poi tantissimi saranno 30 o 40 tenendo conto che sono anche i morti e quelli che erano ormai inabili a fare cose del genere comincerei a parlarvi di quelli che la resistenza la fanno ma non la fanno nel biellese il primo di questi è Angelo Irico o Irico non saprei dire vercellese che ha una storia appunto di carcere di confino di emigrazione in Francia e in Russia e poi alla fine della guerra viene accolto in Unione Sovietica quindi lui fa la grande guerra patriottica come la chiamano i russi adesso non so bene quali ruoli abbia avuto se non infatti ma questo è verso la fine della guerra si è occupato di propaganda nei confronti dei prigionieri italiani l'altro che è stato quasi sempre in Unione Sovietica è Matteo Secchia Matteo Secchia che io ho conosciuto bene è una persona simpaticissima nativo di Occhieppo superiore come il fratello Pietro più famoso che Pietro in Spagna non ci è andato Matteo è stato in Spagna a seguito degli ufficiali sovietici e allora a grado di capitano mica una roba da ridere insomma era a stretto contatto con i generali sovietici forse più che generali sono stati i tenenti colonnelli che hanno che hanno partecipato alla guerra di Spagna finita la guerra di Spagna torna in Unione Sovietica ed è stato attivo nella battaglia per la difesa di Mosca quindi si è fatta tutta la guerra in Unione Sovietica e poi è ritornato in Italia alla liberazione portandosi dietro una bambina di otto anni con cui ha vissuto tutta la sua vita anche quando poi poi si è sposato poi la moglie è morta lui è rimasto con questa che non era più una bambina ma era una ragazza e anche quando questa si è sposata è sempre rimasta a vivere con lui è anche una bella storia che meriterebbe di essere raccontata perché anche degli elementi di romanticismo notevoli poi ci sono gli altri due che la resistenza la fanno e come sono tra i massimi dirigenti della resistenza italiana ma non la fanno nel Bielese e sono Francesco Leone e Antonio Roasio tutte e due fanno parte del comando generale delle brigate Garibaldi sono gli ispettori che era il termine che usavano per indicare quelli che andavano a portare le direttive e a raccogliere le informazioni nelle singole realtà e sono dirigenti della ruota di liberazione a Firenze prima e a Bologna poi e con questo ne abbiamo già visti quattro piuttosto significativi ce n'è un altro che a me sembra molto interessante che ho conosciuto personalmente che è Carlo Ravetto Carlo Ravetto arriva dall'Argentina arriva dall'Argentina in Argentina era membro della direzione del partito comunista argentino ed era un dirigente del sindacato dei tessi a un certo punto è costretto a fuggire ripare in Francia e siamo a ridosso della 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 vicenda spagnola quindi va in Spagna dove non ha compiti di carattere militare fa fondamentalmente il propagandista il giornalista eccetera lui fa la resistenza non so bene come non abbiamo altre informazioni nella zona di Bordeaux e poi torna in Italia nel 1945 ed è il primo segretario della Camera del Lavoro di Biella fino al 1955 come vedete è un panorama di persone che hanno girato il mondo c'è uno storico genovese che io conosco che è anche un bravo storico si è occupato per esempio molto di Fillac di Buronello eccetera lui ha scritto un libro peraltro pregevole ci ha messo vent'anni a scriverlo ha intervistato tutti i partigiani rimasti e lui fa tutto intitolato con un titolo che già da solo comunisti e partigiani come se ci fosse una contrapposizione e lui sostiene che questi giovani che arrivano e cominciano a fare la resistenza che erano dei giovani molto molto capaci molto in game anche colti devono anche combattere contro dei dirigenti imposti dal partito comunista che arrivavano dalle galere lui li chiama i ventotenisti ma è un'autentica cazzata questa roba qua perché quelli che arrivavano da ventotene oltre che a ventotene erano stati come minimo in Francia spesso e volentieri in Unione Sovietica molti erano stati in Spagna alcuni erano stati in America cioè questi avevano visto il mondo a differenza di quelli che stavano in Italia che altro che il mondo non vedevano niente perché c'era c'era una situazione di chiusura da tutti i punti di vista compreso quello culturale arriviamo finalmente al nocciolo della questione per quanto riguarda l'interesse biellese cioè quelli che fanno la resistenza nel biellese allora nel 43 vengono mandati spediti in parte ci vengono per sponte loro ma l'indicazione è quella vengono spediti alcuni chiamiamoli dirigenti politici o dirigenti militari come preferite a mettere in piedi le brigate partigiane garibaldine né biellese sono tutti combattenti di Spagna uno è Nedo Paietta che non è biellese però viene comunque mandato lui aveva fatto oltre che la Spagna ha fatto anche l'esperienza del del france partisano a Parigi era uno di quelli che gravitavano intorno al gruppo manuchian e non era stato individuato quindi Nedo Paietta che è il primo comandante della brigata garibaldi la seconda che come forse voi sapete è la seconda brigata garibaldi nata in Italia la prima è nata in Friuli la seconda è nata nel biellese anche per per capire lo lo sforzo che è stato fatto in questa zona era una zona che era considerata nevralgica insieme a lui c'era Adriano Rossetti di di Mongrando che è un ritorno perché Rossetti da molto tempo stava in Francia e poi aveva fatto la guerra di Spagna era stato ferito gravemente nella battaglia di Guadalacara poi aveva dovuto riparare in Francia per curarsi perché aveva avuto mesi di cura insomma c'è Adriano Rossetti il terzo del comando era Anello Poma che all'inizio della sua storia non era un quadro politico così sperimentato cioè Anello Poma va in Spagna appena per così dire si iscrive al partito comunista è uno di quelli più giovani e anche dal punto di vista militare siccome era giovane lo impiegano di fatto come ardito non ha ruoli dirigenti nella guerra di Spagna ma è un esempio classico di quello che vi raccontavo prima cioè di questo percorso di formazione cioè evidentemente individuano in lui un giovane promettente e assecondano il suo bisogno di conoscenza formandolo politicamente e culturalmente di fatto quando lui torna dopo anni passati in parte in Spagna in parte in campi di concentramento in parte a Ventotene è di fatto un dirigente politico e quindi viene subito se indirizzato per far parte di questo comando che comprendeva quasi tutti quelli del comando erano combattenti di Spagna perché poi c'erano anche oltre i tre di cui vi parlavo c'erano anche Giovanni Caligaris che invece era stato comunque un comandante in Spagna anche Caligaris c'è una storia strana perché è di più o meno lo possiamo considerare di Mont Grando ma era nato a Belfort in Francia perché l'emigrazione è anche un qualche cosa che non sempre come dire è un punto di non ritorno a volte c'è anche un andirivieni nel fenomeno migratorio l'altro era Annibale Caneparo che abbiamo già ricordato come uno dei partecipanti alle Olimpiadi Popolari uno dei primi che scendono in piazza e sparano e Annibale Caneparo diventa comandante di quello che prima è un distaccamento poi diventa una brigata poi diventa una divisione diventa la la settima divisione che viene spostata nella zona Ivrea a Osta in realtà è uno spostamento minimo perché invece di stare a Sala sono andati ad Andrate ci vai a piedi da Sala ad Andrate però da Andrate si riusciva a controllare in qualche modo sia la zona di Ivrea e del Canavese sia l'ingresso della Valle d'Aosta vera e propria e poi oltre a Caligaris oltre a Caneparo ce n'era un altro che anche lui viene destinato alla Valle d'Aosta credo perché probabilmente non aveva più le caratteristiche fisiche adatte alla lotta partigiani si tratta di Luigi Viana di Candelo Luigi Viana era stato il primo segretario del partito comunista di Biella quando si forma il partito comunista e quindi è uno che aveva le caratteristiche di un dirigente politico di primo piano e anche in Spagna aveva avuto un ruolo non indifferente nella resistenza lo destinano a fare responsabile del partito comunista e il membro del partito comunista nel CLN di Aosta comunque insomma vedete bene che tra tutti c'è comunque un numero significativo di combattenti di Spagna in questa zona io credo che questa scelta di fare del biellesi un punto cardine almeno all'inizio sia dovuta a vari fattori uno il fatto che alcuni dirigenti del movimento partigiano comunista conoscevano bene il biellesi perché erano biellesi uno che in qualche maniera siccome tutti speravano che prima o poi gli alleati sarebbero arrivati o dalla Francia o addirittura dalla Svizzera potenziare diciamo i territori che stavano intorno al Monte Rosa e che voleva dire i territori che potevano comunicare sia con la Svizzera sia con la con la Francia era probabilmente una scelta strategica l'altro motivo è che essendoci nel Stato nel biellesi un movimento operaio e successivamente un movimento comunista molto forte chiaramente era considerata insomma una zona in cui era possibile fare 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 proseliti e crescere cosa che in effetti è avvenuta cioè se appunto ripeto la seconda brigata si è formata lì perché ci aveva i numeri e sufficienze per fare una brigata altrimenti avrebbero operato diversamente per il momento mi fermerei qui naturalmente sono qua e aspetto domande contestazioni suggerimenti da parte vostra bene per il momento ti ringraziamo naturalmente invitiamo i corsisti a farsi vivi con le loro domande io volevo soltanto precisare che la seconda brigata si forma nel gennaio del 44 quindi siamo proprio all'inizio della lotta quindi una storia così ma già sottolineato Italo piuttosto significativa e importante proprio per la scelta strategica fatta ci sono domande interventi nessuno voglia rompere il ghiaccio in questa stagione invernale si vede che è un ghiaccio troppo ma sono tutti preparatissimi sono Barile ciao ma niente così tanto vedo che è un momento di vorresti magari dire qualche parola in più sui problemi sorti con il movimento internazionale il seguito del patto Ribetroff Molotov perché mi ricordo che tuo papà raccontava che anche all'interno appunto del capo dove erano stati rinchiusi in Francia ci sono stati degli scazzi mica da poco così no no ma sì però non è che posso dire molto di più rispetto a quello che ho già accennato cioè in realtà c'è un ripeto un comportamento quasi schizofrenico per cui i combattenti di Spagna comunisti sono i primi a battersi contro il nazismo già in Francia i primi naturalmente non contestano assolutamente la scelta dell'Unione Sovietica tranne qualcuno nel caso di Vagliani è un caso comunque abbastanza raro non sono tantissimi sì ci sono perplessità per esempio uno che non era tanto convinto era di Vittorio che pure era un dirigente di primissimo piano però in generale loro prima di tutto avevano chiaro che in quelle condizioni terribili bisognava fare una scelta di campo e l'unica difesa l'unica possibilità era l'Unione Sovietica cioè su questo ce l'avevano chiarissimo secondo c'era anche la fede la fiducia che in realtà questa fosse una scelta tattica che poi in realtà è vero era una scelta tattica cioè in certo punto i sovietici si sono visti isolati hanno visto il rifiuto da parte dell'Inghiterra e della Francia di mettere in atto delle forme di collaborazione e di alleanza nel frattempo erano attaccati erano già in guerra in Mongolia cioè l'esercito giapponese dalla Manchuria aveva cercato di invadere la Mongolia sono stati fermati da Zhukov Zhukov si è fatto le ossa come stratega militare nella guerra in Mongolia e quindi come dire prendono tempo in maniera se vuoi come spesso facevano in maniera sbrigativa in maniera cinica eccetera però prendono tempo e quindi così è stata letta questa cosa è ovvio che per esempio nei campi di concentramento gli scazzi con gli anarchici gli anarchici figurati gliene dicono di tutti i colori dal loro punto di vista hanno anche perfettamente ragione però ripeto in generale grandi grandi crisi non ci sono state qualche caso isolato ma proprio non credo che superino le dita di una mano dei militanti come dire attivi insomma che abbiano che abbiano contestato però non ho studiato l'argomento più di tanto gli ho fatto questo esempio di Valiani che trovo significativo ma non saprei cos'altro cos'altro dirti una domanda Italo sono Andrea Gilney sei arrivata nel biellese anche tu la mia domanda riguarda quel pezzo che ha fatto a contatto in centinaia di libri che però mi interesserebbe anche ascoltare da te il maggio del 37 gli scontri di Barcellona l'anarchia il Comun il Partito Comunista ovviamente ognuno di noi che ha fatto un'idea che ha generato la situazione ma dal punto di vista degli italiani che erano là qui nelle forze più orientate col Partito Comunista chi più con gli anarchici per quello che hai potuto capire come è stata vissuta questa vicenda di quelle giornate di combattimento da parte degli italiani che erano là ma allora sai la prima risposta è che gli italiani non erano là cioè gli italiani erano al fronte e soprattutto erano a Madrid erano nel centro della Spagna non erano a Barcellona a Barcellona c'erano gli anarchici e all'inizio c'era stato il piccolo gruppo della cosiddetta colonna italiana che in realtà era una sezione della colonna a scaso formata da da Berneri e da Carlo e da Carlo Rosselli tra l'altro ne facevano parte c'era anche qualche italiano per esempio prima ho citato il compagno di Candelo Luigi Viana Luigi Viana era già presente in Spagna nella nella colonna nella colonna Rosselli per semplificare quindi sì sicuramente ci saranno stati elementi italiani anarchici così come c'erano nel POM il POM ha operato fondamentalmente in Catalogna quindi loro c'erano a Barcellona e sono quelli che hanno subito maggiormente la repressione perché gli anarchici lo sconto è stato con gli anarchici perché gli anarchici pretendevano di controllare la centrale telefonica che è una cosa improponibile nel momento in cui stai facendo una guerra e devi creare le comunicazioni per un esercito cioè non esiste che un gruppo controlla quella cosa lì e ne fa quello che vuole quindi dopodiché poi con gli anarchici hanno fatto in qualche maniera hanno attuato dei compromessi tant'è che gli anarchici che erano nel governo non escono dal governo e anche per ovvie ragioni gli anarchici erano tanti quindi non è che potevi così più di tanto quelli che vengono veramente repressi sono purtroppo sono quelli del POM che che vengono vengono incarcerati in qualche caso ammazzati insomma sono quelli che ne fanno le spese della politica staliniana di fare terra bruciata alla propria sinistra insomma di più non sono in grado di dirti insomma ci sei? certamente ti ringrazio in grado in grado sentitelo volevo intervenire perché diciamo fra chi ci segue ovviamente c'è anche chi deve poi pensare a una ricaduta didattica delle lezioni che facciamo segnalando che l'istituto negli anni si è occupato del tema con alcune pubblicazioni che qui ricordo la prima credo in ordine cronologico in Spagna per la libertà dove sono appunto raccontate alcune biografie proprio naturalmente di personaggi locali e poi c'è stato il repertorio di Ramella il secolo breve spagnolo che è proprio una cronologia della guerra di Spagna infine c'è un volume scaricabile in pdf in formato solo elettronico messo insieme con le testimonianze di tuo papà Nello Poma si intitola Ricordi di due guerre civili che mentre i primi due diciamo sono disponibili chi li volesse acquistare lo può fare Ricordi di guerra civile scaricabile gratuitamente dal sito dell'istituto e poi ho scritto anche l'indirizzo in chat c'è il portale oggi in Spagna domani in Italia fatto dall'AIGVAS in collaborazione con l'istituto nazionale Ferruccio Parri ci descrivi velocemente i contenuti di questo portale poi magari se vuoi dare alcune altre indicazioni bibliografiche direi di base perché credo che comunque ci sia tra di noi chi è interessato a un approfondimento appunto sempre in questa ottica di carattere didattico sì va beh allora cominciamo dal dal portale che si chiama antifascisti Spagna tutto attaccato punto punto it che è il un lavoro che non è concluso è un lavoro in Fieri perché è un censimento con biografie materiali di ricerca fotografie tutto quello che si può raccogliere relativo ai competenti di Spagna italiani ed è in Fieri perché ne troviamo sempre qualcuno di nuovo c'è sempre qualcuno che è sfuggito anche perché essendo che molti hanno vissuto all'estero voi capite che è più difficile avere una tizia su di loro di italiani è più facile perché uno va a vedere nel casellario giudiziario o nelle carte di polizia sono schedati e sono raccontati abbondantemente è un lavoro che ha avuto una gestazione lunghissima perché le prime biografie le fece un combattente che poi visse a Bologna si chiamava Vanelli che fece delle schede biografiche ricavate in parte dalle pagelline che facevano e che faceva Edoardo Donofrio per per l'internazionale comunista in parte da un primo lavoro di suo personale che contattò una serie di di personaggi ancora in vita tra l'altro lui aveva buoni rapporti anche con la Francia e quindi riuscì a recuperare un bel po' di francesi poi venne in Italia Giuseppe Marchetti che è stato per lunghi anni segretario dell'associazione Spengo il cellulare così non ci disturba più e questo lavoro fu incrementato anche perché si posero il problema di dimostrare quello che avevano fatti i competenti di Spagna quelli che c'erano anche a scopi pensionistici quindi Marchetti si si improvvisò archivista che passò una buona parte della sua vita dopo il ritorno in Italia a fare ricerche d'archivio partendo dalle schede di Vanelli poi fece le schede che sono note come schede Marchetti poi l'associazione pubblicò un libro l'unico libro pubblicato dall'associazione prima dell'arrivo dei nuovi che si intitola una spagna nel cuore che vabbè non si trova più ma lo abbiamo digitalizzato se uno va sul sito ci sono però è assolutamente superato perché da allora utilizzando sia ricerche fatte fondamentalmente da compagni nostri insomma sia anche ricerche fatte da persone a noi vicine ma c'è chi ha fatto la tesi di Laura vi faccio un esempio esistono ben due repertori scritti da due persone diverse sui combattenti di Spagna della provincia di Bergamo due non due e ne è uscito uno sui Mantovani un anno e mezzo fa e uno sui Trevisani l'anno scorso cioè continua a esserci gente che fa queste cose utilizzando queste ricerche confrontandole con l'informazione che noi abbiamo eccetera abbiamo messo tutte queste notizie in questo portale che contiene le biografie laddove abbiamo perché molte volte c'è solo è nato ed è morto è morta lì laddove possiamo le biografie i luoghi fisici in cui è possibile trovare del materiale documentario sul personaggio archivi centri studi eccetera eccetera fotografie se ci sono eccetera eccetera e naturalmente è un lavoro in fila perché non solo ne troviamo di nuovi ma si possono aggiungere informazioni o correggere inesattezze no è facilissimo uno digita il titolo antifascistispagna.it compare una schermata può scegliere un nome se hai in mente un nome può scegliere un luogo se hai in mente che vuole sapere quanti erano quelli di occhieppo superiore per dire eccetera eccetera e poi abbiamo fatto questo lo ripeto sempre anche perché devo fare un po' di pubblicità a me medesima ho fatto questo web documentario che è particolarmente utilizzabile dal punto di vista didattico perché essendo un web documentario diviso in capitoli uno prende un capitolo o addirittura prende un sotto capitolo e lo analizza poi va a vederne un altro poi un altro ancora ci può navigare in mezzo e il bello di quel lavoro è che ci sono interviste a una quindicina di storici italiani francesi spagnoli ma ci sono spezzoni di video interviste a combattenti di Spagna quando erano ancora no quando erano ancora vivi insomma e quindi voglio dire li vedi in faccia mio padre addirittura lo vedi in due fasi diverse sono delle interviste fatte quando aveva 70 anni e altre fatte quando ne aveva 80 quindi sembrano due persone diverse insomma una di queste interviste tra l'altro è stata fatta proprio dall'istituto vostro insomma è già mancata anche la persona che l'aveva intervistata perché la gente muore purtroppo a volte anche giovane muore e poi come libri in realtà sulla guerra di Spagna sono stati scritti pare 40.000 tra libri articoli eccetera un numero esagerato soprattutto nel mondo anglosassone sui combattenti di Spagna c'è pochissimo cioè c'è quello che abbiamo fatto noi e qui segnalo la storia della dodicesima brigata quella che così propriamente chiamiamo brigata garibaldi ma non è vero la dodicesima brigata che ha fatto Marco Puppini che è il nostro storico interno chi fosse interessato ad averla si rivolge a noi si rivolge a me glielo facciamo avere poi vabbè c'è un lavoro bello fatto bene da parte di uno storico che ormai è diventato un cattedratico che ha fatto la storia della colonna Rosselle cioè si è limitato a quello e poi adesso abbiamo fatto un ultimo libro uscito da qualche mese che è in parte un'autobiografia e in parte una biografia che perché è spuntata fuori una insomma un'autobiografia fatta da appunto da Giuseppe Marchetti quello delle schede il quale racconta la sua esperienza relativa alla fase iniziale della guerra di Spagna nella centuria di Gastone Sozzi perché i primi due gruppi uno il più famoso e anche quello che proprio un attimo prima è quello di Rosselli a Barcellona ma ce n'è un altro anche lì sono un'ottantina non di più che è la centuria Gastone Sozzi che è messa in piedi dai comunisti e di cui è commissario politico Francesco Leone che opera sul fronte di Madrid e poi a un certo punto quando si formano le brigate internazionali confluisce allora abbiamo fatto un libro che raccontiamo la storia di Marchetti e però c'è anche questa piccola tanta cartella insomma autobiografia di Marchetti medesimo come libri più in generale sulla guerra di Spagna ce ne sono tantissimi non me la sento di consigliare perché sono veramente tanti e sono anche piuttosto corposi ce n'è uno che secondo me funziona bene perché è un libro agile se riesco a biblioteca qui davanti forse lo trovo anche che ha fatto una storica romana che vive cioè che insegna all'università di Barcellona si chiama Isabella Locascio Isabella Locascio dove sei finita Isabella Locascio in questo momento non lo trovo comunque è un libretto uscito mi pare vi cercate Isabella Locascio la guerra di Spagna insomma lo trovate è un libretto un po' più agile però fatto bene anche relativamente recente a pochi anni insomma ed è una buona 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 introduzione all'argomento insomma per quanto riguarda ripeto i combattenti di Spagna ci sono solo le cose nostre poi c'è un grande un grande lavoro fatto da uno storico francese ma a parte che è in francese ma è sui volontari francesi lui aveva intervistato alcune decine di volontari si chiama questo storico Remi Skutelski probabilmente di origine polacca altro un libro che a me piace molto che avevo utilizzato l'anno scorso per la è questo che parla delle donne nell'antifascismo nella guerra di Spagna non avendo mai preso un fucile tra le mani antifasciste italiane nella guerra civile spagnola ecco puoi dire qualcosa delle donne si allora intanto quel libro lì è un libro pioniere siamo stati i primi nel mondo a fare un libro sulle donne suona un po' male il fatto che un libro sulle donne l'abbiano fatto due uomini insomma però può andar bene anche così però abbiamo cercato una storica italiana che insegna all'università di Madrid Laura Branciforte che si era occupata dell'immigrazione politica e quindi ci ha fatto una bella introduzione in cui porta un po' anche uno sguardo di genere insomma che altrimenti ai nostri magari non veniva fuori del tutto sono delle biografie sono le stesse biografie che trovate nel portale ma raccolte in un volume a parte con le storie e anche le fotografie in qualche caso delle donne che hanno partecipato alla guerra di Spagna sono 80 o 90 insomma c'è una buona percentuale di anarchiche questo è interessante c'è una buona percentuale di anarchiche e poi ci sono personaggi anche abbastanza notti come Teresa Noce che fu una dirigente politica sia in Spagna sia in Francia durante la resistenza insomma questo libro piace un po' c'è anche il fatto che va di moda da un po' di tempo questa parte parlare delle donne infatti adesso ne stanno facendo anche gli americani i tedeschi tutti stanno facendo dei libri sulle donne in Spagna ce n'è anche uno fatto da una pugliese che è vissuta per parecchio tempo a Barcellona quando era giovane ma è vecchia non è adesso si avrà 50 anni la quale era riuscita a intervistare un certo numero di militanti donne del POM quindi aveva fatto questo libro abbiamo fatto una presentazione congiunta insieme tra l'altro nel circolo Arci Moris che è quello LGBT perché lei è LGBT appunto e l'avevamo fatta insieme insomma abbiamo presentato il nostro e il suo avevamo dialogato come è giusto fare insomma sì il discorso sulle donne ovviamente non è solo un problema di colmare un vuoto e di sottrarre dall'oblio anche i personaggi femminili è anche come dire un aspetto che va affrontato perché se dal punto di vista militare non è stato così significativo il ruolo delle donne in guerra di Spagna però stiamo parlando di una guerra che forse è la prima guerra totale della storia cioè una guerra che è indirizzata tramite i bombardamenti eccetera contro la popolazione civile e quindi in cui le donne diventano protagoniste passive ma non solo perché poi ci sono anche l'organizzazione dei rifugi tutta l'attività di continuare per esempio l'attività didattica di insegnamento eccetera nonostante i bombardamenti quindi aspetti che sono assolutamente anche attuali insomma cioè parlare di guerra non vuol dire solo parlare dei soldatini insomma grazie del 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 suggerimento abbiamo fatto la quarta edizione di quei libri ne va piace ci sono dei personaggi bellissimi insomma va bene ci sono altri interventi possiamo avviarci ai saluti anzi anzi io chiederei torniamo un attimo indietro ma indietro alla lezione precedente perché marincola hai delle notizie su marincola interessanti allora beh a parte il fatto che combinazione noi non siamo in tanti siamo una piccola associazione ma uno dei nostri soci più attivi a Roma è Lorenzo Teodonio che ha scritto insieme ad un altro una biografia di Giorgio Marincola razza partigiana l'altro nostro associato attivo a Bologna è il nipote di di marincola che tra l'altro è un personaggino molto interessante questo questo nipote di marincola perché ha messo in piedi un gruppo teatrale che si chiama Cantieri Metici che è composto da 30 persone 30 di paesi e diversi sono marocchini africani danesi belgi c'è un metto straordinario e loro recitano fondamentalmente testi classici compreso Shakespeare però cercando di farne una lettura anticolonialista e i due marincola si chiama marincola il nipote Anter marincola e Teodonio hanno anche fatto qualcuno di voi lo conosce me l'ha segnalato qualcuno di voi hanno fatto un un video documentario prodotto incredibilmente dalla Rai dalla Rai di Bolzano perché è difficile che Rai sganci dei soldi per fare una cosa di questo genere ma Rai di Bolzano probabilmente non avevano altre cose da fare allora adesso per tornare a bomba è notizia di questi giorni c'è un articolo stamattina di Carlo Greppi sua stampa e un altro ieri insomma che comunica che su iniziativa su richiesta di un consigliere comunale Somalo di cui non mi ricordo il nome nell'ambito della titolazione di alcune vie o giardini o spazi a personaggi rilevanti da cui ci sarà un viale intitolato Nid De Jotti un giardinetto in un quartiere semiperiferico di Torino esattamente in mezzo tra via Biella e via Borgomanero no? pensate un po' c'è un giardinetto e ha deciso di intitolarlo non a Giorgio Marincola partigiano ma ai fratelli Marincola che secondo me è molto interessante perché c'è un conto parlare di Marincola medaglia d'oro della resistenza partigiano vabbè combinazione era nero no? vabbè no? un conto è parlare di due fratelli un fratello una sorella che vengono portati in Italia dal padre e strappati alla madre nota bene no? trapiantati in Italia per carità questo padre li ha allevati li ha cresciuti Marincola è andato anche addirittura al liceo eccetera però sono stati comunque in qualche maniera delle vittime del colonialismo italiano e quindi titolare un qualche cosa a questi due in quanto somali eccetera apre no? a suo modo un discorso sul colonialismo italiano e sulle sue malefatte no? vedremo di farci di farci qualcosa verranno su sia Anter Marincola sia Teodonio quando ci sarà l'inaugurazione magari costruiamo qualche evento qualche discussione una cosa faremo benissimo era una notizia che era dovevo fare dopo la lezione dell'altra volta e a questo punto possiamo passare ai saluti anche gli auguri di buone feste visto che ormai siamo in questa prospettiva e dare appuntamento alla terza lezione che sarà se non ricordo male il 24 di gennaio Raffaella magari mi aiuti non me lo ricordo bene comunque sarà la lezione sul tema della deportazione in prossimità del giorno della memoria tenuta da Alberto Lovato di cui abbiamo presentato in questi giorni la nuova ricerca sulla deportazione nei territori biellesi vercellesi e valsesiano quindi auguri a tutti grazie a Italo perché credo sia stata una lezione molto ricca e appuntamento l'anno prossimo grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti